8 e 36 minuti benvenuti al nostro ospite Walter Cherubini buongiorno a voi ben ritrovati buongiorno Walter Natale è Natale è Natale è Natale si può vedere le luminarie a Milano esatto allora io quello che ci hanno detto poi dimmi tu cosa avete analizzato voi della consulta per ferire ci hanno detto quest'anno che è Natale per tutta la città perché se tu sei in azienda e volevi fare una luminaria un albero nel centro della città eri costretto in un certo senso a farlo anche un intervento nella zona più periferica della città è andata così diciamo che c'è un intendimento di riequilibrio ok nel senso che tutti quanti vanno in centro l'abbiamo visto anche in situazioni precedenti bolle in piazza del duomo subito più in là ci sono le iniziative sportive poi c'è magari una manifestazione particolare perché nell'occasione c'era anche l'anniversario del generale dalla chiesa allora andiamo da piazza del duomo a il castello e subito dopo dove c'è un affollamento che non ci si riesce proprio a stare e è chiaro che tutti quanti tendono ad andare verso il centro perché si ha una maggiore visibilità allora l'amministrazione comunale che è per tutta la città per tutti i 181 chilometri quadrati e per tutto il milione 400 mila residenti direi che in questa occasione invitando spontaneamente o spintaneamente coloro che vogliono utilizzare per certi aspetti e dare visibilità alla città avere visibilità nella città in questo caso va bene distribuiamoci un pochino il risultato è che ci sono 42 se non rammento male però l'ordine di grandezza è questo punti di luminaria e ce ne sono 21 che sono nel centro ok e 21 che sono nel resto della città detto così funziona quindi ma diciamo che funziona come logica ok dopodiché si va a vedere qual è la stratificazione e allora c'è sul 9 per cento sul 9 chilometri della città che sono il 5 per cento della città che appunto c'è una concentrazione di 21 e sul 95 per cento della città c'è una concentrazione di 21 sempre c'è questo dato il problema è che può fare tendenza questa cosa ne avevamo parlato anche rimanendo sui termini diciamo così estetici e anche magari artistici ne avevamo parlato anche con il bonus che c'era per quanto riguarda la cultura allora anche con il tema del bonus alla cultura se i fondi che stanziano i privati vanno alle realizzazioni più evidenti perché le altre sono sconosciute non è che uno non voglia sostenerle ma proprio non sono conosciute allora è chiaro che l'amministrazione vedendo che arrivano fondi al teatro la scala può anche dei fondi che normalmente dal teatro la scala dirottarli da qualche altra parte altrimenti noi non avremo mai una città equilibrata cosiddetta policentrica che se poi non c'è l'amministrazione policentrica non sarà mai policentrica ma di questo ne parleremo eh sì insomma insomma quello del tema delle preferite ma che appunto da anni portiamo avanti e insieme a valte che rubini quando appunto vieni qua a raccontarci la città e ricordiamo essere la maggior parte della città e quindi sempre è questo fondamentale buona iniziativa buon punto di partenza speriamo che appunto prenda piede che magari d'orino avanti poi ci siano veramente non solo 21 luminarie sul 95 per cento del del territorio ma sempre di più ma non solo luminarie cioè che le attività appunto anche i fondi vadano a raccontare meglio quello che succede in in periferia e nelle realtà presenti per questo che valta di esempio in realtà esistono ma sono sconosciute facciamole conoscere andiamo dalla periferia però una cosa arriva sicuramente la musica la musica viene sempre da lì è difficile che uno di questi ad esempio è arcomicon insuperabile 840 cristal radio good morning milano insuperabile ercomi cristal radio 843 minuti good morning milano insieme a valter cherubini parlavamo dei fondi che vengono destinati alla cultura ad esempio da poco fa cioè ricordiamo un po anche l'entità di cosa significa questo allora facciamo una il paradigma ok alla cultura territoriale del comune di milano e siamo anche nel centenario degli antichi comuni milanesi quindi e centocinquantesimo anche dell'aggregazione del comune dei corpi santi che sostanzialmente vuol dire fino al 1873 il comune di milano erano i nove chilometri quadrati del centro storico successivamente 1873 appunto aggregazione del comune di corpi santi il comune di milano passa a 76 chilometri quadrati con il 1923 14 dicembre 1923 appunto fra pochi giorni scate il centenario il comune di milano si estende quelli che sono i confini attuali 181 chilometri quadrati questo qui è un pochettino la cronistoria è una data che è sconosciuta perché a scuola non ci viene insegnato a noi a milano come si è evoluta la come si è evoluta è proprio l'ingrandimento della città di milano questo qui è il primo punto allora se ritorniamo al nostro paradigma quindi fatto questo paradigma di estensione territoriale si potrebbe parlare sugli abitanti delle cose interessanti ma prossimamente allora noi abbiamo il teatro alla scala che era il teatro del comune di milano perché fondato nel 1770 80 e quindi questo qui è il teatro della città di milano originaria per quanto riguarda diciamo parliamo da dall'unità d'italia in po mettiamo in questa maniera a un bilancio di circa 130 milioni di euro l'anno il bilancio della cultura del comune di milano assomma circa mediamente 90 milioni l'anno dopodiché ci sono i municipi diciamo così gli otto municipi periferici lasciamo perdere il municipio 1 che generalmente stanziano circa 60 mila euro l'anno vuol dire 6 per 8 48 mezzo milione l'anno allora i numeri sono 130 90 mezzo questo è il tema di fondo ecco direi che cosa vuol dire che c'è un assenza no c'è una presenza non conosciuta c'è la presenza conosciuta ufficiale e c'è una presenza non conosciuta perché uno potrebbe dire va bene allora sul territorio periferico non c'è nulla ma se riprendiamo quella che è l'area degli otto municipi quindi recuperando anche un pezzo di semicentro e qual è il tema noi abbiamo per esempio 109 teatri amatoriali o professionali nemmeno i teatranti sanno che ci sono tutte queste disponibilità dopodiché per esempio chi genera cultura di varia natura da chi proietta film chi fa spettacoli teatrali eccetera eccetera abbiamo mappato sul sito periferia in milano al punto com 183 circoli o associazioni culturali se andiamo ancora avanti abbiamo tra le biblioteche comunali presente sul territorio periferico che sono 22 più biblioteche di associazioni biblioteche anche di condominio ne abbiamo più di 60 se poi prendiamo siccome noi abbiamo promosso ormai da oltre i due lustri l'iniziativa cori milano per le periferie abbiamo anche che hanno sede in questo territorio periferico che potrebbe sembrare deserto più di 70 cori amatoriali ecco abbiamo una presenza di 400 soggetti se andiamo più nel dettaglio possiamo dire che ogni mese queste realtà promuovono a titolo gratuito più di 300 iniziative che sono iniziative anche di qualità significativa ho in mente ma parliamo proprio quasi della preistoria 1999 direi in quel di figino quindi dopodiché c'è settimo milanese e venne allora l'assessore carruba l'assessore alla cultura e rimase positivamente impressionato perché presentammo tutta una serie di realtà associative che promuovevano cultura attraverso che cosa la presentazione di libri che avevano fatto e apprezzò significativamente questo tipo di iniziativa allora è chiaro che poi se stiamo ai dati ufficiali e ritorniamo sempre lì c'è un dato economico anche con book city sono stati forniti tutta una serie di elementi economici e la fetta di osservazione è quella di chi spende quella di chi fa no a milano fa e il disum e il femma cambia completamente parametro e infatti anche l'osservatore per la qualità della vita di milano fatta da meglio milano già il che fa statistiche proprio anche sugli aspetti culturali disse poi ci sono tutta una serie di iniziative che non sono di facile reperimento perché sono proprio quelle amatoriali gratuite così via ecco allora noi facciamo queste 300 iniziative al mese le spalmiamo vuol dire che ce n'è solo 3.000 e forse anche di più tanto per avere un'idea ecco se queste non entrano nella visione del budget della cultura milanese e ci perdiamo una fetta fetta molto molto interessante e grande che appunto dobbiamo cercare di riqualificare e di non perdere adesso invece Kid Laroi insieme a Justin Bieber con Stay Kid Laroi insieme a Justin Bieber con Stay Stay ancora qui un attimo Walter perché ci devi dire allora degli appuntamenti importanti che hanno a che fare con la città nei prossimi giorni allora nei prossimi giorni nell'ambito di quelle che sono il palinsesto delle iniziative per il centenario di antichi comuni milanesi noi abbiamo promosso anche unitamente altre associazioni una settantina di appuntamenti diffusi sul territorio biblioteche associazioni scuole quant'altro e quindi abbiamo dato una informazione nuova su quello che è un pezzettino di storia della vita milanese che va dal 1873 al 1923 che non è che è sconosciuta 50 anni di storia sconosciuta si conclude questo palinsesto diciamo così ma poi avrà delle altre delle continuazioni in seguito abbiamo due appuntamenti cittadini che sono il mercoledì 13 dicembre alle ore 16 a Palazzo Reale che ci sarà esattamente il convegno di chiusura invece avremo il giorno dopo alle ore 21 ma in questo caso al cinema Arlecchino dove verranno proiettati i filmati che sono stati realizzati sugli antichi comuni milanesi sono interessanti da vedere a questo vorrei associare anche le trasmissioni che abbiamo realizzato con focus periferie e con appunto milano news ormai le abbiamo oggi esce l'ultimo oggi esce l'ultimo è arrivato angelo oggi esce la puntata di trenno giusto e quindi diciamo che è un'altra faccia della medaglia per cui abbiamo visto gli stessi posti in una maniera diciamo così per certi aspetti attualizzata con un'attenzione storica e in particolare con un'attenzione all'evoluzione della vicenda amministrativa comunale quella burocratica magari che però conta in questo momento già sul sito di milano news trovate l'uscita già l'ultima puntata di quale di trenno ci sono anche tutte le altre dieci oltre a quale di trenno di tutti gli undici comuni che abbiamo visitato in questo per in un po' di settimane siamo andati in giro raccontato quindi sì ricordiamo che tutto questo poi invece si conclude diciamo il 14 giusto a palazzo il 14 è al cinema arlecchino 13 a palazzo 13 ore 16 a palazzo reale invece 14 ore 21 al cinema arlecchino che anche è una bella cosa perché il cinema arlecchino è rimasto forse uno dei pochissimi cinema in quella zona lì ancora che tiene dure lotta insieme a noi in questi casi dopo la chiusura anche dell'odio insomma vai Walter grazie grazie a voi grazie alla prossima a martedì prossimo a martedì prossimo con la consulta periferia milano a martedì prossimo appunto con tutto quello che fa periferia che sappiamo a milano essere tanta 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 e adesso è coez essere liberi